Il vostro trio, Aldo, Giovanni, siete sempre virali perché nella home compaiono un sacco di video di vari spezzoni dei vostri show a teatro. Oggi per esempio per una nota vicenda calcistica a Cerbi... Sì, sì, so che è successo. E quindi oggi a Cerbi è stato assolto dei memi meravigliosi, no? Soprattutto io che commento questa cosa e mi chiedo, mi quanto è bella la mafia! Grazie.